La Regione Abruzzo scommette sul trasporto ferroviario finanziando due corsi biennali post-diploma presso l'Istituto Tecnico Superiore Most di Ortona, scuola di specializzazione nella logistica distributiva e nella mobilità delle persone. L'obiettivo è la formazione specializzata di preparatori treno e macchinisti da inserire nel mercato del lavoro per la gestione del trasporto ferroviario modale e combinato. Al corso potranno accedere 25 giovani diplomati residenti in Italia e di età non superiore ai 29 anni, come specificato sul sito dell'Istituto Tecnico Superiore Most. Alfonso Di Fonzo, presidente dell'ITS Most. Come tutti sappiamo oggi il tema del trasporto ferroviario è un tema dove è stato acceso un faro grandissimo, il raddoppio della Pescara Roma, la velocizzazione della Bologna-Lecce. Sono argomenti importanti messi sul piatto e noi come TS Mobilità Sostenibile vogliamo rispondere presente. Abbiamo sfruttato, ovviamente ringraziamo il finanziamento da parte del Consiglio regionale, quindi promosso dal Presidente della Commissione Emanuele Marcovecchio e in collaborazione con Forfair, ma anche con Tua, perché noi abbiamo la fortuna di avere Tua e quindi Sangritana, sia come socio della Fondazione, ma anche comparatore regionale, quindi abbiamo la possibilità di dare ai ragazzi, di far toccare ai ragazzi con mano quello che è il trasporto ferroviario. Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, con l'attivazione di questi corsi professionali la Regione investe sulla formazione di giovani lavoratori che poi saranno impiegati appunto nel settore della mobilità sostenibile. E facciamo crescere la nostra azienda ferroviaria di trasporto pubblico, una cosa molto importante perché il reperimento di macchinisti è una delle grandi difficoltà che hanno oggi le aziende ferroviarie, esiste un vero e proprio cannibalismo tra aziende, spesso succede che l'azienda dello Stato che è presente in tutta Italia toglie alle piccole aziende dei territori macchinisti che nel frattempo hanno formato spendendo anche tanti soldi perché hanno la possibilità di avvicinarli al loro luogo di origine. Noi creiamo un percorso virtuoso con l'Istituto Tecnico di Formazione Superiore di Ortona che forma i nuovi macchinisti e altre figure professionali legati al movimento dei treni e alla gestione delle aziende ferroviarie. Io spero che tanti ragazzi abruzzesi vogliano scegliere questo percorso perché è un percorso molto professionalizzante, ben retribuito e di sicuro accesso lavorativo. Il 98% fino ad oggi delle persone che hanno fatto questi corsi trovano lavoro entro sei mesi ed è ripeto un lavoro professionalizzato, serio e anche giustamente e equamente retribuito. A margine della conferenza stampa il governatore Marsilio è poi tornato sulla vicenda dell'autostrada 24 dopo la caduta di Massi sulla carreggiata all'altezza di Carsoli. Questa frana non è un caso, è uno dei punti che negli allarmi lanciati da Strada dei Parchi e nel progetto presentato dall'ex commissario Maurizio Gentile veniva esattamente segnalato come uno dei punti peggiori nel quale addirittura si suggerisce nel nuovo progetto di cambiare completamente tracciato. Purtroppo sono ormai anni che non si assumono decisioni da parte del Ministero, né di ridare la concessione a Strada dei Parchi né di toglierla. Quello che la Regione Abruzzo chiede è che il Ministero decida, prenda una strada chiara perché ci sono 4 miliardi fermi che non si investono per la sicurezza e l'ammodernamento di questa autostrada che ha finito in larghe parti, in larghi tratti il suo ciclo di vita e noi non possiamo aspettare ancora.